Ciao a tutti ragazzi e ben ritorno di Fondo L'Ono 6 e oggi siamo in un nuovo video su un gioco che ho sul mio telefono infatti sto registrando come ho bisogno come registro sempre questo gioco è sul mio telefono e ci giocheremo insieme il primo canestro consiste nel fare il canestro lì come avete visto dai dai che questo è buono sì, grandissimo Ale il mio record è del 14 non so se si è visto ma prima stavo giocando con una palla nuova si chiamava la palla dell'8 quella che devi mettere alla fine nel biliardo per vincere ma va bene anche questa però quella là come posso dire aveva più aderenza però ora come sto parlando come sto parlando adesso sto riuscendo a fare i punti vedete 6, arriviamo a 6 credo che sono morto solo una volta e si e vai prima vita andata anche la seconda dimmi pure la terza pure la terza e la quarta potrebbe uscire la bomba dai sì sì ragazzi sì ragazzi esce anche la bomba e passiamo al livello successivo ah no pure questo non è andata bene nemmeno questa qua ci ho spregato le peggio vite non so perché non lo riesco a fare però ce l'ho fatta ce l'ho fatta ragazzi no di pochissimo ragazzi di pochissimo poi devi riuscire a far passare anche la palla qua che è anche molto difficile infatti ti rallenta ecco boom questo pure ragazzi è difficilissimo ma ce l'ho fatta in qualche modo ragazzi ragazzi ce l'ho fatta in qualche modo oddio pure questo sì andiamo andiamo nuovo record mentre sto registrando nuovo record oh no ok basta non gioco più perché ho finito purtroppo ho finito un brogolino in giù quindi best nuovo best dove stava avevo la pallina perché sono woodball va bene facciamo questo scusate ragazzi ecco la pallina da 8 ball di qua di qua ok ragazzi proviamo anche con questa che ha meno slancio quindi è un po' più pesante e per questo riesce a fare bene alcune cose come ad esempio questo ci riesce bene come avete appena visto anche se sono morto solo una volta non ce l'ho fatta anche qua non ce l'ho fatta però quasi fortunatamente anche qua ragazzi bene benissimo si passa dallo stage successivo ce l'ho fatta niente ragazzi pure qua ce l'ho fatta siamo a 7 e siamo a 7 qua ho fatto una ciofeca pure qua e perché non va bene e quando non lo giusto ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta pure qua andiamo siamo a 9 siamo a 9 ragazzi a 9 a 10 si grandissimi con 0 vite quindi appena perdo ho perso si dai grandissimo grandissimo oh dai per le vite eh niente però abbiamo ancora una vita ancora una no dai ultima chance si 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 passa si passa a livello 13 oh dai no la monetina no col va bene per questo ho un'altra chance e ce la faccio 14 si punta di nuovo al 16 questo è impossibile infatti abbiamo perso purtroppo best 16 siamo arrivati a 14 riproviamo ok il primo è andato i primi sono facili se si sanno fare infatti ho sbagliato appena parlato è fatto 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 sì 4 4 sono morto solo una volta le ultime parole famose infatti le ultime parole famose sì ragazzi va bene così questo sì qua se si sanno fare sono facili infatti come avete visto siamo a due vite a due no ragazzi mi ha fregato alla fine dai dai no vabbè però monetina col va bene per questo un'altra chance se la spreco proviamo proviamo questo il football best 16 vediamo com'è subito andiamo il primo il primo secondo no va benissimo così no sì secondo andato secondo andato beh per un attimo credo che rimanesse là sopra terzo non so perché sono ancora così basso e ho solo due di vita appunto ultime parole famose uno e zero ok ho perso infatti mi esce pure la monetina col simbolo in basso questo secondo me è meglio l'otto ball la pallina da biliardo è meglio meglio la pallina da biliardo però ognuno è abile se si sa usare non solo questo mi si deve adattare siamo a tre a quattro ragazzi siamo anche a sette minuti di video a cinque a sei mi possono dare vite a sette siamo a sette a otto nove dieci posso avere la bomba la bomba la bomba no all'ultimo all'ultimo quanto mi davano la bomba per saltare un livello non ce l'ho fatta no no dai dai no è troppo troppo ragazzi troppo si adesso siamo a dodici ancora abbiamo ancora qui cinque di vita si 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 a tredici no quattordici no 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 si quindici ragazzi per questo è meglio si perché siamo nella zona albero wood vuol dire legno dai dai ragazzi no sedici sedici vediamo se ce la facciamo no no perché perché no perché potevamo superare e va bene ragazzi per questo video è finita anzi andiamo a scartare un'altra pallina vediamo oh grassball la palla di erba grass in ingles vuol dire erba quindi credo che vada bene allora ricapitolando la pallina da biliardo quella di erba quella di legno quella normale e questo qua che ti fa uscire casuale tra quelle che hai sbloccato ogni 500 puoi sbloccare una pallina e niente ragazzi per questo video è tutto ci vediamo a un prossimo video ci dice la gente grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.